Avvocato Sottira, chi ringraziamo per questa edizione straordinaria ricca di ospiti meravigliosi. Intanto so che lei ha degli angeli custodi. Beh sì, effettivamente ringraziamenti quest'anno sono tantissimi e innanzitutto ad uno dei nostri soci onorari al dottor Antonello Ricanelli, a Fiammetta Palmieri, Giacomo Ebner che sono i nostri partner della magistratura in questa organizzazione non solo del premio ma soprattutto nell'individuazione durante l'anno di tutte le attività che sono in linea con il premio, con quindi con tutti i progetti, con tutti gli eventi che sono, che riescono a portare la legalità al di fuori dalle aule giudiziarie e quindi questo rapporto con la cittadinanza, con gli studenti soprattutto, quest'anno questo bellissimo evento in Cassazione e poi la ricerca anche di nuove modalità di fare comunicazione, di fare legalità e quindi questo premio anche abbiamo dato all'interno del settore della sanità. Il premio che mi è piaciuto di più è stato anche questo per questo modo nuovo e fresco di fare giornalismo, il Caffè delle Dieci e sicuramente il premio che ho amato dare è quello che abbiamo conferito a Carlo Verdone, un grande artista, un grande umanità ma soprattutto vederlo in azione con i giovani per parlare dei pericoli di internet, vedere anche questo suo impegno a favore di questa tematica mi ha davvero molto colpito, molto di più che conoscerlo come artista. È vero, infatti ha colpito tutti, tra l'altro un uomo si misura sempre dal suo senso di umiltà e devo dire che Carlo in questo è stato grandioso perché anche ai nostri microfoni si è proprio lasciato andare con confidenza eccetera, quindi grazie Carlo Verdone. Grazie ad Antonella Suttira per averlo portato qui stasera. C'è un altro personaggio che ci ha sconvolto, l'avvocato si è commossa ed è questo premio che è stato dato per la disabilità, quando però la disabilità diventa abilità, far conoscere il buono che c'è dentro le persone a chi di solito non vede troppo queste cose. Il premio a Maria Rosaria Malapena è stato il premio emozionante, non solo per la battaglia che Maria Rosaria ha intrapreso e portato avanti con una grande vis, con grande coraggio perché già lottare contro le discriminazioni è faticoso, essere già una persona diversamente abile che intraprende questa lotta lo è di più. Questo premio ovviamente si aggiunge al riconoscimento che il Comune di Napoli ha già dato il 10 maggio a Maria Rosaria, riconoscendo questa licenza di taxi, quindi social car driver e quindi io non vedo l'ora di poter posare per questo album fotografico di tutti i personaggi che le vorranno essere accompagnati da Maria Rosaria. Un'ultima cosa e al di là insomma di augurarci edizioni straordinarie ma quest'anno abbiamo già veramente forse superato anche il tetto massimo a cui potevamo ambire grazie appunto a Carlo Verdone. Ma al di là di questo avvocato che cosa augurare a questo premio per il futuro, per le prossime straordinarie inedite, ancora inedite edizioni? Ma io a questo punto mi augurerei che il premio prendesse il volo, nel senso abbiamo scelto come icona l'Hermes quindi che finalmente non abbia soltanto le ali sull'elmo ma che abbia le ali ai piedi per poter arrivare in altre città, in altri luoghi, in altri spazi dove sensibilizzare le persone alla necessità di riconoscere il bello, il buon diritto, la buona giustizia, la buona osservanza delle leggi perché come recita la nostra pergamena soltanto se osserviamo le le leggi saremo veramente liberi. Grazie avvocato Sardegna.